Tutti a scuola! Ciao a tutti, sono Massimo Scandillo, docente responsabile della scuola dell'infanzia Oltrano, appartenente all'instituto comprensivo Giovanni XXIII. Come hanno già parlato i ragazzi prima, hanno dato il servizio, nel mese di gennaio c'è stata accompagnata nella nostra scuola con una lavagna multimediale dell'attività che è una risorsa chiaramente eccezionale in quanto ha fatto la laurea naturale, a propositare i bambini dati che hanno chiaramente ormai alle imprese con queste strumentazioni tecnologiche. Adesso sarà a conto di noi insegnanti sfrutturando questa risorsa, e come voi tutte le altre risorse tecnologiche che hanno la scuola già presso l'esposizione, facendo proprio dei basi utenti, quello che è l'interesse naturale di tutti i bambini e di persone della sua università. La nostra scuola promuoverebbe un primo approccio all'attività all'attività e all'attività di tipo interativo, ma non è tanto la fabbricizzazione con queste strumenti, attraverso programmi educativi e la sperimentazione diretta, ma stimolando in particolar modo quella che è la partecipazione attiva dei bambini da loro attività e le loro funzioni logiche, di loro ragionamento e di loro apprendimento. Inizieremo l'attività per tutto per tutte le attività che andiamo a proporre, ma contemporaneamente con un uso consapevole e responsabile per queste strumentazioni digitali. Adesso ho fatto vedere un'attività a svolgere dai bambini con la lì, perché l'abbiamo utilizzata per il progetto di educazione cinica, della nuova educazione stradale, e tra le codiche e i bambini. Tutti a scuola, tutti a scuola, allora devo andare. Un bacio dalla mamma, un bacio anche al papà. Un gran mare di bambini, nella scuola c'è di già. Ci son grandi e piccini, sembran tanti fiorellini. Le maestre sorridenti, li prendono per mano, insieme allegramente, fanno un gran baccano. Tutti a scuola, tutti a scuola, allora devo andare. Un bacio dalla mamma, un bacio anche al papà. di un bacio dalla mamma, un bacio anche al bacio! Un bacio alla mamma. Un bacio alla mamma, un bacio alla mamma. Un bacio alla mamma.